ehi la ciurma benvenuti in questo nuovissimo episodio di i grandi fail di obs sto registrando sì stavolta sto registrando ho già registrato praticamente dieci minuti in cui stavo iniziando a fare il il medium voltage compressor puf niente non ha registrato un kaiser un kaiser di niente io avevo premuto lo shortcut ve lo giuro insomma e tutto questo non me lo sono givato se volete potete controllare qua mancheranno degli oggetti tra l'altro caricati mon ecco bravo mancano degli oggetti se qualcuno di voi dice ah sei un trassolio ti sei dato con la creative no proprio no ho bisogno della mano quanto mi urta il fatto che hai bisogno della mano per andare a dormire quindi continuiamo anche perché non ho tantissimo tempo quindi mi scuso in anticipo se questo video sarà più corto perché nonostante io abbia poco tempo obs naturalmente decide di lasciarci il piedino e quindi torniamo a bomba al nostro compresso e eccolo qua ci servivano appunto due pezzi di stone come ricorderete non ricorderete assolutamente perché tutta quella parte ho parlato a vuoto come una scema davanti a uno scherzo ok va bene è meglio che non ci penso va vabbè adesso abbiamo il nostro low voltage compressor abbiamo anche tolto la parte noiosa insomma diciamo delle noie allora quattro stainless steel due pneumatic tube e un medium voltage cable vediamo cosa abbiamo il medium voltage cable ce l'abbiamo però non vedo i le pipe la come si chiamano e pneumatic tube e quattro stainless steel ne ho solo tre tanto per cambiare allo stainless steel si fa con carbon steel e chromium quindi ho bisogno di carbon steel tre di carbon steel che sono un due tre e chromium ce l'abbiamo del chromium sto ancora registrando si sto ancora registrando mi vengono i terrori terrorizzanti allora questo non è chromium vero no è stainless steel ok quindi adesso questo è finito mettiamo qua mettiamo il nostro pincopallo a cuocere dai dai tra l'altro guardate che bei fiorellini guarda che bei fiorellini c'è la mia ragazza che è un appassionato dei fiorellini di minecraft e allora dedico questi fiorellini alla mia ragazza molto romanticamente guardate che profumino di fiorellini hanno un profumo così 16 bit mi sono dimenticato cosa stavo facendo e sapete l'amore sei fogli allora ho bisogno di ma vabbè mi suona anche il cellulare adesso ma insomma tutto il mondo che mi mi disturba in questo momento cosa stavo facendo la plastica come la faccio la plastica non mi ricordo più come si fa la plastica sto chiuso allora per fare la plastica ci vuole la colla per fare la colla no non ci fa la colla devo mettere sei foglie insieme vero poi mi dite che è così vero 1 2 3 4 5 6 perfetto facciamo che farla un altro po' e cuocerla no cosa questo non è plastica non è carta perfetto ok ecco gimme gimme the plastic sheet 1 2 3 4 5 6 e i pneumatic tube sono qui low voltage no stavo facendo il medium voltage allora quelli ce li ho adesso mi manca il medium voltage per cui ok le fibre mi servono e mi servono anche i carbon steel ingot che sono sempre quelli base vero sì ok quindi carbon steel ingot ne devo fare 5 quindi 5 di ferro dove sei 5 di ferro ok li spariamo qua dentro 5 5 vai intanto ho bisogno di due di questi stupidi ragazzi che odio tantissimo voi non sapete quanto li odio perchè chiedono tipo un fracco di risorse e sono anche mediamente lunghi da fare mi avete chiesto forse nello scorso episodio se e quando farò la pipe work presto nel senso adesso finisco di ingranare un attimo questi macchinari con il medium voltage e poi mi occuperò anche di quello perché comunque una parte interessante nonostante non sia così fondamentale per noi adesso visto che comunque risorse ne abbiamo poche non abbiamo nulla di particolare da dover smistare degli auto crafting o cose così però potrei assolutamente farmi tipo degli auto crafting per i pannelli solari visto che comunque quelli high voltage richiederebbero un sacco di tempo per costruirli e quindi meglio è laverceli in auto crafting risparmio un fracco di tempo non voglio questi voglio i miei carbon steel ingot ecco qua il nostro medium voltage transformer e noi andiamo a chiudere il medium voltage compressor e lo piazziamo qua e obs sta registrando questo momento epico si lo sta facendo perfetto adesso che cosa ci serve questo a un fico secco di niente abbiamo fatto tutto questo per niente no ci servirà per degli dei macchinari diciamo più che altro per live voltage e delle altre cose tipo credo sapete quella cosa bellissima di cui vi parlavo ma che non mi ricordo assolutamente più che cosa sia quello che sembra tipo archimetro chat chiuditi non ti voglio chat 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 supply converter non so cosa sia ecco questo affare qua il prospector ecco come si chiama per questo mi pare che avrò bisogno del del compressor perché peraltro non serve praticamente a un kaiser di niente si trasforma la desert sand in desert cobblestone ma vabbè il desert stone più che altro abbiamo bisogno di qualcosa di più interessante che è il fatto di fare prendere della team e fare no proprio uno gg e di fare una batteria da infilare anche in quell'altro macchinario così lo upgrade diamo con la batteri perfetto detto questo ci sistemiamo un po le tasche fortuna che c'è il sorting così non devo più stare attento metto tutto così a muzzo un po muzzo muzzo ehi muzzo muzzo ho messo tutto sort wow adesso qua ho da mettere qualcosa no ho da mettere qua le fibre fa bene mangiare fibre mangiate sempre fibre non di plastica però magari allora sortami tutto ok spariamo questo ripararsi perché mezzo rotto si effettivamente così rotto che peggio di così non può andare e andiamo a posizionare questi cespuglietti allora io direi che visto che la zona orto da questa parte non ho ancora stabilito se eliminare tutta questa roba o cosa probabilmente lo farò probabilmente lo farò ma non lo farò adesso perché non ho tanto tempo per registrare e sono già passati eh sono passati solo 9 minuti di registrazione vabbè ehm non ho molto tempo per registrare magari verrà anche meno di 20 minuti anzi suppongo che verrà meno di 20 minuti questo episodio perché non ho tanto tempo ahhh il tempo eeeh dovremo piazzarli da queste parti dove li piazziamo dove potremo piazzarli vicino qua all'orticello eeeh potrei quasi quasi piazzarli qua al lato della nostra cucina però non lo so nel senso qua è andrà rivisto un po' beh ma magari lo faremo poi dopo piovanti quello là nel senso al prossimo episodio magari faccio vroom rado al suolo tutto qua no questo qua no questo no il nostro piccolo gazebo dell'orto mmm in legno di sequoia eeeh e quello lo 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 metteremo al suolo e metteremo a posto la roba anche perché dai adesso una persona che c'ha 30 iscritti non può permettersi di avere delle piante che fanno nascere del dei bicchieri di latte cioè mi sembra un pochettino assurdo diciamo ecco qua allora direi che possiamo metterli qua dai facciamo che visto che per ora ne abbiamo due due ne metto qua e poi dopo loro faranno le loro bacche suppongo no non è che devo concimarle o cose no anche perché non ci sono concimi e vuole vari eeeh e quindi speriamo che 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 si facciano le bacche tra l'altro non so neanche se quel chunk è caricato dovrebbe essere caricato e non vado troppo lontano però ne tiene caricati pochi e anche ma in test bisogna dirlo mi piacerebbe tanto che esistessero i chunk loader su mine test raccogliamo dei fiori così dopo possiamo distruggerli per fare i colori e li mettiamo nella nostra piccola ceste che poi tanto piccola non è tra l'altro eeeh visto che abbiamo fatto la maggior parte di quello che andava fatto onzolo vi aggiorno per due cose allora innanzitutto come ho detto prima siamo attualmente a 30 iscritti e sono moltissimo contento eeeh sono sceso costato per farvi vedere che ho scavato un po' infatti vedete che c'è un sacco più di cobblestone eeeh magari potremmo utilizzarla in futuro per qualche altra costruzione magari per migliorare un po' questa casa che fa abbastanza schifo lo schifo comunque dicono no sono molto contento di questo traguardo anche perchè comunque ci sono delle persone tra di voi che commentano regolarmente e sono molto contento perchè perchè il sole sta tramontando su questo mondo di mine test e tutta questa foschia cioè se io faccio così no cosa che è successo qualcosa che l'ho mosso e si vedeva tutto foscoso wow tra l'altro un albero con dei blocchi sconosciuti c'è là sopra già tra l'altro ma io non mi ricordo assolutamente i punteggi della scorsa settimana tornando alle cose interessanti quindi io vi dico che vado a controllare un attimo e ci rivediamo no aspetta guardiamo un attimo quanto tempo è che registro beh 12 minuti io direi che mi scuso molto ma possiamo andare in conclusione adesso vado solo a controllare due secondi i punteggi della scorsa settimana ci vediamo tra un attimo rieccoci sono andato a controllare e sono andato anche a dormire sto registrando questa parte vero mi vengono le paturnie adesso ok si sto registrando ehm invece sono andato a controllare le tre risposte sono state di ferdi e diavolo blu che vuole essere rappresentato con un piccone di diamante il nostro amico sam e il nostro amico alessandro il piccolo diamante ce l'ho qua blocco sconosciuto dov'è scusate allora lui era andato avanti di uno e il blocco sconosciuto era andato avanti di due perché diavolo non c'è più il blocco sconosciuto ah perché credo cioè ho dovuto sostituire dei file del gioco e forse ha andato a sostituire delle cose che erano successe nello scorso episodio ehm avevo preso quel blocco la vero andiamo a recuperare il tuo blocco sam papapà 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 ok blocco sconosciuto preso adesso possiamo tornare all'attacco miei prodi ok in questi momenti vorrei avere tipo una bici da cross per arrivare in fretta in là però vabbè ehm nel frattempo le ere geologiche passarono e gli iscritti di mazzetessa andarono tutti a dormire eccoci tornati qua allora due punti erano per il nostro amico Sam adesso le risposte sono state come avrete potuto vedere ciccio gamer89 dato da ferdi diavolo blu ehm che tra l'altro non so ferdi diavolo blu sei la stessa persona di ferdi Napoli oh c'era una persona c'era un ferdi qualcosa un tempo vabbè scrivimi poi nei commenti voglio sono curioso ehm è di alessandro mentre invece Sam ha risposto favij commentando pure che non gli piace quindi suppongo che non sia un suo iscritto ehm il primo rispondere è stato ferdi diavolo blu che quindi rimane in posizione uguale con il nostro Sam solo che Sam ha risposto quindi va avanti di una casella altrettanto come alessandro che va avanti di una casella detto questo la situazione si fa sempre più appassionante sempre più avvincente con alessandro che si avvicina rapidamente alla svolta e ehm inseguito molto vicino da ferdi diavolo blu e Sam detto questo io credo di potervi salutare ehm molto salutosamente con questo bel praticello pienissimo di fiori c'è un'invasione di fiori ci sono degli alberi altissimi là dietro mi fa paura togliamo la R mi fa troppo paura quella cos'è? dei blocchi sospesi nel live vabbè cose strane è meglio non lo saperle guardiamo giù ecco comunque detto questo io vi saluto vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se vi è piaciuto il mio video e volete restare aggiornati sui prossimi video ci vediamo lunedì per con Child of Light e ehm ehm e beh sabato prossimo con la prossima con il prossimo episodio di Mindtest la domanda di questo episodio è qual è il nome del protagonista della nuova serie che ho appena iniziato? ciao a tutti al prossimo episodio